Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 28 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Luna protagonista, ma un po' sgarrupata. Un po' sgarrupata la luna del giorno, comunque protagonista nel vostro segno e ben sostenuta da Marte e Saturno, di sicuro non campionari di allegria e dolcezza, battagliero uno, tenebroso l'altro, ma. Meglio ritrovarseli in trigono piuttosto che in quadratura. In questa posizione ecco invece il vostro astro guida Plutone, che ormai c'è e vi toccherà sopportarlo a lungo, nei panni di suoceri malmostosi, famiglie brontolone e magari anche un filo rancorose. E che dire dei vicini di casa. Meglio perderli che trovarli. Magari siete voi, eccitati dalla bianca signora, a sfoderare il lato più sensibile della vostra personalità già così ricettiva e un filo contorta, ma se il partner fosse meno rigido, più accomodante e figli meno ostinati e battaglieri, la vostra sfera affettiva si rivelerebbe senz'altro più gestibile di soddisfazione. Volete fare i duri e invece sotto l'armatura siete molli come un budino alla vaniglia. Notizia sorprendente in arrivo, notizia importante che vi sorprende, che vi rende felici, che vi emoziona. Poste in arrivo, telefonate, e-mail, messaggi in generale, atti, notifiche. Una notizia che vi metterà di buon umore. Riuscirai con facilità a captare i pensieri della gente. Energie basse. Vai in un posto dove ci sia dell'acqua. Magari in un luogo termale oggi vi sentirete piuttosto deboli emotivamente e non sarete in grado di affrontare a viso aperto alcune persone che vi creano problemi. Per oggi meglio rinunciare a qualsiasi scontro o discussione. Oggi potreste ricevere una confessione importante che vi illuminerà definitivamente su certi eventi e ve li spiegherà. Prendete tutto con leggerezza e comunque senza particolari scenate. Prendete la notizia appena ricevuta con le pinze. Potrebbe celarsi dell'altro dietro le apparenze. Abbandonate l'idea di prendere decisioni affrettate, prendetevi il tempo necessario, alla luce anche del fatto che oggi potrebbero giungere notizie inattese. Noie legali e con assicurazioni, oggi è una giornata piena di cavilli e di disguidi. Purtroppo Marte è in posizione sfavorevole e non vi dona la pace necessaria. Mettetevi l'animo in pace se siete di quelli che hanno litigato con qualche amico negli ultimi giorni, le divergenze non si appianeranno certo oggi. Notizie in arrivo su una persona cara. Cercate di frequentare buone compagnie, soprattutto fidate e discrete, non confidate le vostre cose ad alcuno particolarmente oggi. La tua gelosia potrà fare allontanare una persona la quale tieni molto. Su dieci corpi celesti conosciuti, in tutto sono dodici quelli che noi astrologi consideriamo per il nostro schema zodiacale. Due, per il momento sono ignoti astronomicamente, non sappiamo dove sono nel sistema solare, cinque sono per voi favorevoli, si tratta della Luna, di Nettuno, di Venere, di Saturno e di Marte, altri tre sono in angolo tecnicamente negativo, i restanti sono neutri. Le strade che avete davanti sono dunque spianate, esiste un minimo di sfida, sta a voi dovervi decidere su quale di queste strade possa fare meglio al vostro caso. Profilo dei transiti planetari particolarmente fruttuoso per le iniziative, i movimenti di rinnovamento, le attività e i rapporti che vi tornano utili. Tra le molte attrici italiane che hanno costellato il vostro segno ricordiamo oggi l'indimenticabile Monica Vitti. Giornata emblematica questo giovedì con la Luna possessiva indagatrice nel segno inquadratura al vostro astro guida Plutone. Fortunatamente a darvi manforte il vostro comandante in seconda Marte, affiancato però da Saturno, i due pianeti del sistema solare afflitti, secondo gli antichi, dalla fama peggiore, niente meno che i due menagrammo. Amore ed Eros. Se l'amore c'è è litigioso, se manca vi sentite abbandonati, inadeguati, insomma crisi nera anche senza una vera ragione. Saranno le esperienze negative del passato o l'ipersensibilità lunare che vi fa vedere tutto in una luce livida e pericolosa. Tensioni in famiglia e non solo con quella acquisita, scontri col partner, problemi anche con i figli, se ci sono fanno tribolare, se non arrivano vi fanno sentire complessati anche sottilmente in colpa. Prima di flagellarvi non sarebbe meglio sentire un esperto? Secondo il medico ungherese Jonas la massima fecondità femminile coincide con la fase lunare della nascita, vale a dire, per chi è nato con la luna nuova il novilunio sarà il momento medico e così via. Da sperimentare. Una nota di aggressività dominatrice può inserirla oggi Marte pur molto positivo in pesci. I vostri amori possono così essere generosamente possessivi. Fate attenzione a non esagerare in questa direzione, sia che abbiate un legame di lunga durata, oppure se siete in una relazione da poco cominciata. Lavoro e denaro? Un grande affare ovunque, a casa, nell'azienda di famiglia, nel vostro studio in proprio. Ciò nonostante un po' di tempo libero riuscite a ricavarlo comunque, da dedicarlo ai vostri figli o alla vita culturale a cui date comunque la massima importanza. Un film d'essai, un concerto, un incontro al vostro club stasera non ve li leva nessuno. Incassate la stima dei vostri capi per quanto avete realizzato negli ultimi periodi, se svolgete una professione dipendente. È tutto merito del vostro talento, della grinta, del sapervi dare obiettivi prestigiosi e poi raggiungerli con la consueta brillantezza. Benessere. L'energia non è fortissima ma nemmeno da buttare, se i sintomi di qualche malanno cronico tornano in augelita citate con la solita terapia ormai testata e comprovata. Funziona sempre, l'essenziale è non esagerare. Per lei, qualche riparazione o miglioria a casa sarebbe sempre fatta, ma a me non ne riservavano il periodo antecedente la Pasqua a questo genere di incombenze, si imbiancava, si riordinava, un po' come oggi si fa con il corpo con gli integratori di primavera. Per lui, qualcuno descrive i vostri figli come ribelli indomabili, ma forse hanno solo bisogno di sfogare un po' la loro esuberanza, così compressi in un appartamento in compagnia di cellulare, PC e TV non possono crescere sereni. Vengono in mente i ragazzi della Via Pal, o quelli della Guerra dei Bottoni, quella sì che era vita per i giovani. Colore delle emozioni, grigio nuvola. Barometro dell'umore, nuvoloso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.